Un'applauso, accogliamo il bambinello. Sessione ordinata, ci richiedemo al pontile della Guardia Costiera. Valtorio secolare. Un'applauso, accogliamo il bambinello. Un'applauso, accogliamo il bambinello. E questo segno di speranza parte proprio qui, dal mare, per arrivare alla prima terraferma di tanti che la vedono proprio come un senso di speranza per il loro futuro e quindi l'inizio di una storia nuova per l'Europa.